Buon pomeriggio a tutti. Allora per chi non mi conosce io sono Chiara Biondi, attualmente Assessore alla Cultura della Regione Marche. Innanzitutto ringrazio tutti coloro che sono collegati. Questo è un evento, un'iniziativa che la Regione Marche ha fortemente voluto per dare un supporto ulteriore a tutti coloro che intendono appunto partecipare ai nostri bandi della cultura. Come avrete visto quest'anno grazie al supporto importante che è arrivato dal settore Cultura, quindi ringrazio qui in primis la dirigente del settore Bene e Attività Culturali, la dottoressa Daniela Tisi e ovviamente anche tutta la struttura. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio. Siamo andati praticamente con questo bando unico che appunto consente come avrete sicuramente visto la possibilità con un'unica uscita di avere a disposizione dieci misure che andranno appunto a sostenere le iniziative che si svolgeranno nei vari territori. È un'azione assolutamente innovativa che l'abbiamo fortemente voluta soprattutto per dare anche un indirizzo ben preciso che è quello della semplificazione, dell'accessibilità perché noi siamo assolutamente convinti che anche appunto il settore Cultura debba essere il più facilmente accessibile e fruibile da tutti. e tra l'altro io personalmente ho anche fortemente voluto la realizzazione di un video tutorial che possa essere anche in quel caso uno strumento utile di facile anche consultazione proprio per dare un ulteriore supporto appunto a tutti quelli che sono i destinatari del bando. E così come abbiamo voluto fare queste dirette streaming per dare un ulteriore supporto a tutti voi che vi state appunto avvicinando a questa nuova piattaforma. Io mi fermo qui perché lascio lo spazio all'aspetto appunto più tecnico e vi ringrazio nuovamente per essere presenti comunque al di là insomma di queste iniziative rinnovo la disponibilità degli uffici regionali a supportarvi anche con le informazioni comunque anche telefoniche e lascio la parola alla dirigente del settore bene attività culturali la dottoressa Daniela Tisi. Grazie assessore molto ha già riassunto bene quella che è diciamo il motivo di questa iniziativa e in generale quello che ci ha spinti a fare questa misura. Mi permette anche a me di fare dei ringraziamenti perché in questa diciamo in questa innovazione in questa spinta innovativa oltre ad avere il supporto degli altri settori come il settore dell'informatica della transizione digitale e anche del settore del bilancio noi abbiamo avuto il supporto del suo assessorato quindi in questo siamo le siamo grati e siamo riusciti a fare questa misura che è come diceva l'assessore innovativa. Lo scopo di questo incontro innanzitutto grazie per averci insomma per seguirci siete già in molti vi dico subito che se volete fare delle domande specifiche tecniche all'assessore oppure a me e ai miei funzionari potete farle scrivendole in chat e noi alla fine le leggiamo e cercheremo di rispondere. Questo è un incontro che facciamo proprio per darvi delle risposte e degli aiuti. Il primo incontro che è stato fatto lo abbiamo fatto già da un po' lo scorso 26 aprile e questo è il secondo appuntamento salutiamo l'assessore che è impegnata in altri incontri istituzionali grazie assessore grazie a voi buon proseguimento e faccio accomodare qui vicino a me in postazione la dottoressa Laura Caposucca e avvicinare la dottoressa Claudia Lanari. Loro insieme al funzionario Massimo Catinari hanno aiutato moltissimo e sono state veramente operative su questa misura. Allora siamo alla mancano pochi giorni alla chiusura della piattaforma scadrà il 19 maggio alle ore 12 per cui intanto rinfreschiamo questa scadenza che è importante e vi diciamo già che questo bando è stato pubblicato oramai da più di un mese lo scorso 4 aprile. È un bando unico quindi a livello amministrativo è stato uno sforzo notevole ma voi oggi potete avere una panoramica completa delle 10 misure che sono a vostra disposizione. L'incontro di oggi pomeriggio in questa diretta così come lo scorso che abbiamo fatto il 26 di aprile è per tutti i possibili soggetti beneficiari e i destinatari di queste misure che sono sia i soggetti e gli enti pubblici che i soggetti privati. Ci sono diverse misure che sono destinate solo per gli enti locali come la misura che voi avete nel codice CU001 che è il bando di Marche Storie. Andrò ad elencare brevemente quelli che sono i 10 bandi e che sono appunto al codice CU001 bando per l'assegnazione di contributi nell'ambito della terza edizione del festival Marche Storie e questo è il primo che trovate nella lista. Poi via via scorrendo il codice è sempre lo stesso ma ha una sequenza numerica quindi al numero 2 trovate il bando per la concessione di contributi per eventi espositivi di rilievo regionale quindi abbiamo il bando delle mostre così è conosciuto di più. Poi c'è il bando numero 3 cioè con il codice CU003 che è il bando che va a sostenere l'arte contemporanea. Al numero 4 c'è il bando per il sostegno a progetti di rilievo regionale per la valorizzazione di archivi storici presentati dai comuni del territorio marchigiano quindi questa misura insieme alla misura numero 1 Marche Storie è dedicata esclusivamente agli enti locali. Al numero 5 c'è il bando per l'acquisto copie cioè l'acquisto di pubblicazioni già editate di particolare interesse regionale per incrementare il patrimonio librario delle biblioteche del territorio. Il bando 6 è il bando che va a sostenere premi, rassegne e festival multidisciplinari. Il bando numero 7 prevede la concessione di contributi alle istituzioni culturali di rilievo regionale iscritte nell'elenco regionale. Al numero 8 trovate quindi CU 008 il bando per il sostegno ai progetti di spettacolo dal vivo di rilievo nazionale cofinanziamento di progetti dei soggetti PUS annualità 2022-2024. Mentre al numero 9 c'è il bando per il sostegno alle attività e ai progetti di spettacolo dal vivo di rilievo regionale proposti del territorio. Poi vi dirò magari le novità anche di questo bando per il quale abbiamo previsto due canali, due sezioni di finanziamento, due linee, la linea A e la linea B, sempre ascoltando le istanze che sono venute dal territorio. Vi ricordo che nell'incontro, nella diretta che abbiamo fatto il 26 di aprile, alcuni avevano formulato delle domande. Adesso noi le abbiamo raccolte così come abbiamo raccolto altre e pubblicheremo queste risposte in una sezione PAC che sarà poi disponibile per tutti tra penso domani e dopo domani. Il bando numero 10 è il bando invece che va a sostenere i festival, le rassegne e premi cinematografici di rilievo regionale. Quindi come vedete c'è una offerta culturale ampia che noi abbiamo cercato di raggruppare per soddisfare un po' tutto il territorio. Massimo si può vedere la schermata nostra così ci aiuta? Grazie. Cercheremo anche di rendere disponibile quindi pubblicare il bando che, scusatemi, l'incontro, la diretta streaming del 26 di aprile dove abbiamo fatto anche una dimostrazione, una demo di come si struttura la piattaforma e come si fa per presentare la vostra istanza. Oggi diciamo questa parte non la ripeteremo perché pubblicheremo il video di questa diciamo di questa dimostrazione, di questa demo che c'è già stata il 26 di aprile e soprattutto perché come vi ha anticipato l'assessore c'è la possibilità di seguire il video tutorial in cui vi si spiega bene come si fa a presentare l'istanza. In tutti i bandi voi vedrete un riferimento che è il responsabile unico del procedimento quindi per ogni misura voi avete un nome di un referente progettuale che vi aiuterà in caso di necessità cioè al RUF potete rivolgervi per chiedere informazioni sia nel merito tecnico cioè proprio in merito ai requisiti del bando se avete dubbi per esempio sull'attribuzione dei punteggi o qualsiasi altra informazione di ordine tecnico ma potete anche chiedere informazioni di carattere diciamo di funzionamento cioè per qualsiasi problema che voi dovesse riscontrare nella piattaforma potete segnalarlo al RUF. Il settore beni e attività culturali si occuperà di rispondere e di offrire il primo lab desk di primo livello quindi vi daranno riscontro immediato se poi ci fosse qualcosa di più complesso allora si rivolgeranno ai colleghi del settore transizione digitale e informatica che daranno lab desk di secondo livello in ogni caso voi sarete assistiti e tutelati in questa diciamo in questa compilazione altro aspetto importante noi abbiamo già accolto molte domande di questo ne siamo contenti e abbiamo già un primo screening cioè vediamo già visto che questa piattaforma ci permette di effettuare un monitoraggio istantaneo e tempestivo di tutte le vostre istanze possiamo dirvi che già ne sono arrivate diverse vi ricordo la possibilità di scrivere il vostro bando la vostra richiesta ne potete fare più di una secondo se siete individuati come beneficiari purché la facciate su misure diverse non si può presentare la stessa istanza per lo stesso progetto su una medesima misura così come lo stesso soggetto non può presentare due progetti diversi sulla medesima misura potete compilare la domanda e ogni volta attivare la possibilità di la modalità salva quindi salva bozza vi consente di andare avanti nella procedura siamo in una fase nuova nell'era digitale per cui il passo decisivo che abbiamo voluto compiere di digitalizzare tutti i nostri bandi e il bando unico della cultura è fatto nell'ottica come vi diceva l'assessore di semplificare le procedure e rendere anche però più accessibili gli strumenti di valorizzazione culturale del nostro territorio per questo ovviamente vi si chiede di essere dotati di un'identità digitale che sia speed carta di identità elettronica ma se per caso qualcuno di voi non fosse diciamo non abbia molta dimestichezza ancora con questi mezzi può delegare qualcuno che compili la domanda per lui quindi attivando una procedura di delega voi potete abilitare qualcun altro ad essere delegato per scrivere e presentare la vostra istanza la il consiglio che mi permetto di farvi è che dovete fare molta attenzione affinché il vostro lavoro sia sempre salvato con l'opzione salva in bozza e verificare bene alla fine che la vostra domanda una volta che voi la riteniate definitiva possa essere poi inviata con invio domanda solo a quel punto avete la certezza della ricezione perché riceverete comunque un'attestazione di avvenuto invio e ricezione quindi da parte nostra questo è un elemento fondamentale vi prego anche di fare attenzione in questo siamo stati anche molto attenti noi prestate attenzione alla compilazione del vostro progetto su piattaforma digitale perché l'abbiamo concepita in modo tale qui devo fare veramente i ringraziamenti e i complimenti ai funzionari che se ne sono occupati che vedete la dottoressa lanari qui vicino e massimo catinari che non si vede non è a favore di telecamera ma c'è qui vicino che si sono occupati di normalizzare questi bandi e di rendere in griglia la possibilità di farvelo compilare avendo già un'idea del punteggio del monte totale del punteggio che svilupperà il vostro progetto nel senso avete una facilità di compilazione perché vi chiederemo proprio dei campi da compilare con determinati requisiti i bandi quest'anno avranno un comune denominatore si darà una premialità per chi presenta progetti in rete perché appunto è dall'amministrazione di questa regione che viene l'input di lavorare in rete di lavorare sinergicamente con una progettazione integrata che vede il coinvolgimento di più settori e più dipartimenti questo con un unico obiettivo di facilitare le procedure e l'accessibilità a tutti i cittadini marchigiani novità assoluta vi dicevo e adesso io chiederei ai colleghi se ci fossero delle domande già pervenute mi dicono di sì in modo tale che qui abbiamo anche i funzionari responsabili con posizione organizzativa la dottoressa Laura Capozucca che si occupa la conoscerete sicuramente di tutto il settore dei musei e la dottoressa Claudia Lanari che invece si occupa del settore dello spettacolo dal vivo ed è stata anche responsabile proprio per questo bando unico quindi anche a lei dobbiamo anche soprattutto a lei dobbiamo il grande lavoro di questo bando unico della cultura che adesso lo vedete soprattutto nella sua vesta digitale perché lo abbiamo appunto digitalizzato ma a Monti c'è questa questa novità assoluta della regione Marche che per la prima volta esce ed è uscita con un bando unico sulla cultura bene comande sì allora la prima riguarda Marche Storie e ci chiedono se il 70 per cento che è la quota di contribuzione massima della regione Marche copre coprerà tutti i costi o solo i costi dell'evento principale. Tra i costi ammissibili del bando ci sono quelli che riguardano l'evento di spettacolo dal vivo più i costi di promozione comunicazione quindi gli eventi collaterali non sono non rientrano tra i costi ammissibili quindi la risposta alla domanda è che il 70 per cento coprirà i costi ammissibili quindi quelli dell'evento di spettacolo dell'evento principale. L'altra domanda che non è vediamo se abbiamo capito bene e degli eventi culturali sì quest'anno diciamo che c'è una novità anche sul bando di Marche Storie che abbiamo voluto diciamo ricomprendere nelle spese rendi contabili e quindi anche ammissibili le attività collaterali che voi dovete costruire attorno all'evento di spettacolo dal vivo questo proprio per anche ascoltare un po' le stanze del territorio che dove abbiamo visto delle attività veramente significative che vanno ad accompagnare l'evento di spettacolo dal vivo abbiamo creduto necessario integrare questo aspetto e quindi non si va a cofinanziare e quindi solo lo spettacolo dal vivo ma le attività collaterali ovviamente inerenti le attività culturali che vanno a corredare il vostro evento di spettacolo dal vivo di Marche Storie ecco questo è un aspetto importante perché proprio siamo nel settore cultura quindi le attività eventuali di integrazione che accompagnano l'evento di spettacolo dal vivo faccio un esempio delle attività culturali come visite guidate o aperture correggetemi ecco la capozucca dice presentazione di libri cioè eventi culturali che vanno a corollare ad integrare l'attività di spettacolo del vivo sono per noi spese rendi contabili. Altre domande? Allora altre domande sì io infatti intendevo gli altri costi quelli che riguardano attività non culturali ma di magari promozione del territorio o di altre o di altre comunque è giustissima questa precisazione perché è collegato poi un'altra domanda ci chiedono se le associazioni culturali l'elenco delle associazioni culturali siano pubblicate noi nel sito abbiamo pubblicato l'elenco delle istituzioni culturali di rilievo regionale a cui è rivolto il bando numero 7 quindi non so se la domanda si riferiva a questo nel sito regione Marche, regione Utile, Cultura troverete proprio un tag che riguarda le istituzioni culturali di rilievo regionale e lì sono pubblicato l'elenco di quelle riconosciute dalla regione poi magari se invece la domanda intenderò altro la scrivete in chat esatto non esiste comunque diciamo un elenco in generale delle associazioni culturali se non quelle che sono iscritte o a RUNS come associazione di volontariato oppure le istituzioni culturali di rilievo regionale che sono invece pubblicate nel sito Cultura poi un'altra domanda riguarda sempre Marche Storie se i costi che devono essere inseriti riguardano l'evento principale o anche gli altri costi vanno inseriti tutti quei costi ammissibili quindi che riguardano sia l'evento di spettacolo e tutte le altre iniziative culturali previste dal progetto presentato e anche quindi indipendentemente da quello che viene coperto o dalla regione o dal comune cioè vanno inseriti tutti i costi complessivamente sostenuti relative all'iniziativa quindi è un'altra domanda riguarda se il compilatore deve essere necessariamente lo stesso per i diversi bandi no non è un obbligo ma può essere diverso non è un problema come ha detto anche già la dottoressa Tisi cioè se il compilatore poi è diverso da legale rappresentante c'è la possibilità anche di inserire una delega quindi ecco state attento a quello e a inserirla invece i progetti di rete non possono essere presentati da due soggetti allora no nel senso allora adesso facciamo diciamo più opzioni allora se intendete che se il progetto di rete può essere presentato da due soggetti no cioè noi accogliamo una sola istanza dal soggetto proponente che può essere in forma singola o in forma associata ma accogliamo una sola domanda che riguarda un progetto specifico fatta da un soggetto capofila al quale però al bando dovete allegare un'attestazione in cui c'è un accordo tra voi che demandate quel soggetto come capofila progettuale e quindi dal soggetto capofila noi possiamo accogliere una sola domanda se è quello che abbiamo capito altrimenti vi chiederei di specificarlo meglio nella chat così che vi possiamo rispondere in maniera più puntuale e precisa c'è un'altra domanda che potrebbe essere collegata anche a questa vediamo se può essere esaustiva nella risposta ci chiedono se un soggetto può presentare domanda come capofila e far parte come partner di una rete in realtà il soggetto deve essere solo uno cioè deve comparire solo una volta in ogni bando quindi o come capofila o come partner o come soggetto singolo esatto questo proprio perché diamo la possibilità anche nei progetti di rete si ridistribuisce la risorsa economica che è il contributo che dà la regione Marche al progetto ora che sia in rete che sia in forma singola vale una sola istanza quindi ricapitolando per chi presenta il progetto in rete e diciamo e vuole poi ripresentare e fa parte di una rete poi non può presentare sulla stessa diciamo sul stesso codice di bando un'altra istanza però può partecipare ad altri bandi quello sì sì ad altre misure ad altre misure allora qua ci chiedono sul bando possiamo leggere il bando 4 sì quello degli archivi storici sì se la presentazione del progetto può avvenire solo mediante compilazione dei campi messi a disposizione dalla procedura oppure è possibile allegare documenti come ad esempio il pdf del progetto di libere di giunta sì gli allegati possono essere sono previsti il progetto però deve i campi devono essere compilati anche perché sono obbligatori cioè non è ad esclusione voi potete anzi dovete allegare il pdf tutta la documentazione utile per noi che però per noi è documentazione integrativa quindi va ad integrare comunque di base alla domanda i campi che sono da compilare vanno compilati un altro aspetto per esempio legato alla piattaforma che vi dà tutela del fatto che sia in qualche modo accoglibile perlomeno nell'istruttore iniziale la vostra domanda è che è una piattaforma bloccante in caso voi non inseriate i documenti, i dati che chiediamo come obbligatori quindi praticamente non vi fa andare avanti e questo è un segnale che vi fa capire che la domanda è incompleta senza quella parte e non può essere in alcun modo accolta e ricevuta dal nostro ufficio poi altra domanda nel caso di rete tra più comuni per un determinato progetto che documentazione è necessario presentare in sede di invio del progetto allora dipende naturalmente guardate in ogni bando c'è l'elenco degli allegati che devono essere inseriti comunque nel caso di rete è obbligatoria la lettera di intenti tra i soggetti che presentano il progetto in rete e poi la compilazione dei campi di quello che è previsto da ogni bando poi per elenco degli atti amministrativi e contabili ai fini della liquidazione si intendono le fatture ricevute scontrini oppure deve essere prodotto anche documento di già avvenuto pagamento sì per la rendicontazione è necessario inserire la documentazione attestante la spesa quindi ricevute, fatture e poi anche l'avvenuta coetanza quindi la ricevuta del bonifico l'estratto conto da cui si evince che la spesa è stata effettivamente sostenuta poi ce n'è uno di Comune di Montecaziano gli eventi sono solo per il mese di settembre 2023 giusto se presupponiamo che sia Marche Storie e se in quei tre weekend che noi abbiamo indicato e che chi presenta la domanda deve selezionare deve selezionare uno dei tre weekend allora volevo sapere se è prevista una variazione o un aumento delle risorse disponibili a valere sulle misure dell'anno 2023 ad esempio sul banco Marche Storie sono stati impegnati 30.000 vi sarà un aumento del budget regionale? allora questo ovviamente adesso consiglio sempre a tutti di non guardare sulle annualità 23-24 ma il monte totale il budget totale che ha quella misura specifica che ovviamente non è di 30.000 euro diciamo che noi abbiamo questa diciamo questa attesa questa attesa da parte dell'assessore e della giunta di avere questa possibilità di integrare il budget complessivo le risorse che abbiamo avuto a disposizione su questo bando unico della cultura ovviamente il bando unico della cultura e grazie per questa domanda così ci dà modo anche di spiegare come hanno operato i nostri uffici praticamente è un bando unico che racchiude 10 misure che però prende il programma annuale della cultura 2023 primo straccio questo vuol dire che si esce con questo bando unico in base alle risorse che il bilancio ci ha segnato che su questo bando unico stiamo attorno ai 3 milioni 3 milioni e 100 mi sembra quindi se qualora e noi auspichiamo di sì e crediamo proprio di sì qualora arrivino delle risorse aggiuntive andranno sicuramente ad integrazione di queste misure ma non solo di Marche Storie ma di integrare tutte le 10 misure che fanno parte di questo bando unico della cultura quindi è un auspicio e ci auguriamo che sia presto una realtà da potervi comunicare poi un'altra domanda allora riguardo lo speed deve essere quello del presidente dell'associazione capofila del progetto allora lo speed del legale rappresentante del capofila nel caso della rete ma come dicevamo all'inizio forse chi ci ha scritto dice che forse ha saltato una parte ma lo diciamo di nuovo che può essere anche individuato un delegato per la presentazione del progetto quindi qualora il legale rappresentante dell'associazione non riuscisse a presentare la domanda può comunque delegare qualcuno che la presenterà al suo posto allegando poi una delega firmata nel caso di reti come vi ha giustamente anticipato la dottoressa Lanari è importante che ci sia un documento in cui tutti i soggetti che fanno parte di quella rete demandano ad un unico soggetto capofila l'obbligo la possibilità di presentare l'istanza per conto di tutta la rete in quel caso lasciate il presidente o altro è il legale rappresentante del comune ovviamente è il sindaco e per le associazioni chi è individuato come legale rappresentante quindi lo speed è del legale rappresentante del soggetto titolato a presentare istanza o in forma singola o in forma associata oppure delega allora un'altra domanda riguarda invece una realtà teatrale che dice che ha difficoltà nel definire quando e come sarà quando e dove saranno gli spettacoli mi puoi staccare Massimo il computer così lo vedo lo mettiamo più al centro se lo stacco ah ok dopo non c'è ok ecco per i professionisti di ogni anno organizzare a maggio quando saranno gli spettacoli e dove come dobbiamo muoverci hanno difficoltà a pianificare oggi quindi magari non saranno io beh diciamo che non è un tanto largo anticipo perché considerate che noi con tutta la buona volontà ma siamo usciti quasi ora che il bando scade siamo al 19 maggio quindi adesso credo che voi almeno un'idea la dovete avere insomma quando presentate il progetto è bene avere almeno una programmazione perché questo vuol dire che avete già individuato delle date considerate che poi diciamo siamo giustamente a metà anno quindi credo che sia adesso non so da chi viene se è una difficoltà vostra però credo che questo è anche un requisito del bando ve lo dico anche un requisito di qualità cioè avere già una pianificazione e un'organizzazione di eventi di spettacolo del vivo e delle date adesso ci potrebbe essere ci possono essere ovviamente dei margini di variazione o comunque dei cambiamenti minimi che si tollerano in una percentuale però non avere per nulla per noi un cronoprogramma è un'idea di date e spettacoli potrebbe essere una criticità in sede di valutazione del punteggio e del progetto considerate anche che noi adesso così lo diciamo diamo molto valore quando fate anche un piano di comunicazione adeguato è ovvio che non si riesce a fare un piano di comunicazione e strutturarlo se qualcuno non ha nemmeno idea di quando e dove fare gli spettacoli poi ripeto possono variare c'è questo margine di variazione c'è altre domande poi un'altra ma credo che sia più un'affermazione che sul bando dell'arte contemporanea è possibile la partecipazione in rete costituita da almeno tre soggetti in possesso dei requisiti previsti accesso del bando la domanda deve essere allegata tra i tradintenti questo è quello che è previsto e vale per tutti i bandi che prevedono la partecipazione in rete se il progetto in rete prevede tre tappe l'importo eventualmente finanziato verrà stanziato tutto a favore del soggetto capofila per la rendicontazione poi si devono presentare singole rendicontazioni o una singola da parte capofila allora il soggetto capofila al soggetto capofila è l'unico referente con la struttura regionale quindi deve raccogliere la documentazione e presentarla per conto della rete alla regione Marche quindi una volta che l'istanza viene presentata da un soggetto individuato dalla rete stessa come capofila è l'unico soggetto che diciamo di interlocuzione con i nostri uffici da quello che sta emergendo quindi ad un ente può partecipare un ente può partecipare in una misura ad una sola rete quindi se un mio partner contemporaneamente partecipa ad una rete nello stesso bando il mio progetto viene considerato non ricevibile no è il partner che partecipa due volte cioè nel senso dovete fare attenzione in questo senso in linea generale noi non possiamo ricevere da uno stesso soggetto su una stessa misura più di un progetto che sia rete o che sia in forma singola che sia come capofila o che sia come partner di progetto poi una volta completato e inviato il progetto se ci accorgessimo di aver commesso un errore di aver dimenticato qualcosa sarebbe possibile prima della scadenza correggerlo o integrarlo se non hanno inviato l'istanza se l'hanno o no nel caso fosse stata inviata può essere rimandata un'altra domanda e viene considerata l'ultima arrivata quindi non potete correggere o integrare quella inviata perché quella viene anche protocollata quindi è chiusa abbiamo scritto sì sì comunque è indicato anche nel bando sì ecco è importante vi diamo scusami Claudia ma date diciamo un'occhiata puntuale a quelle che sono per noi le disposizioni generali cioè quelle disposizioni che trovate all'inizio di questo bando che sono valide per tutti i bandi questo è l'allegato 11 dove noi diamo delle disposizioni ovviamente di norma generica generale che servono sia per la presentazione delle domande cioè la scadenza e come vanno presentate sia il rispetto della normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato sia l'evidenza dei contributi cioè tutte quelle cose che poi voi siete dovuti a rispettare i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi la pubblicazione degli esiti istruttori l'inammissibilità della domanda queste sono voci importantissime che già vi dovrebbero togliere tanti dubbi così come la modalità di assegnazione e l'utilizzo del contributo la modalità di liquidazione del contributo la modalità di rendicontazione che anche questa sarà effettuata ripeto per la prima volta in assoluto sulla piattaforma Smart Bundy tutte le note che riguardano ovviamente nella rendicontazione del contributo c'è proprio una pagina molto sviluppata ben chiarita su tutti quelli che possono essere la domanda che avete rivolto poco fa la ricevuta fiscale e le ricevute come devono essere appunto noi abbiamo messo una voce con scritto scontrino parlante cioè che deve indicare che i costi sono riferiti al soggetto beneficiario e alla tipologia di acquisto cioè siamo andati molto nel merito specifico le varianti del progetto in che misura e come possono essere accolte così come la revoca e la riduzione del contributo i controlli gli obblighi di pubblicazione gli obblighi informativi e poi tutto quello che è materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tutela della privacy eccetera quindi lo trovate in questo allegato dove trovate scritto le disposizioni generali allora se il comune a presentare distanza a Bando Festival si avvale della collaborazione di associazioni partner che con diverse competenze partecipano al Bando e si accollano parte della spesa è possibile rendicontare le somme erogate a contributo allora non ho chiaro la domanda allora la rileggo perché grazie allora se è il comune a presentare l'istanza nel Bando Premi Rassegni Festival ma si avvale della collaborazione di associazioni partner che con diverse competenze partecipano al Bando e si accollano parte delle spese è possibile rendicontare le somme erogate a contributo sì questo vale per tutti i bandi nel senso che se un soggetto proponente si avvale di un soggetto attuatore in questo caso di un'associazione rendiconterà il contributo erogato all'associazione e le spese sostenute dall'associazione se abbiamo capito bene altrimenti se invece è partner noi daremo i fondi al capofila quindi se ad esempio il comune presenta la domanda come capofila di una rete e questa associazione è partner l'associazione potrà sostenere delle spese e poi il capofila rendiconterà comunque le spese dell'associazione se abbiamo capito bene poi ce n'è una che riguarda il bando archivi ma è perché magari adesso ce la siamo appuntata lasciamo gli archivi così lasciamo al nostro responsabile che si occupa proprio di archivi perché così entriamo nel merito poi ci chiedono un progetto può avere una durata biennale allora per alcuni sì possono essere devono tutti essere diciamo avere inizio nel 2023 e poi possono completarsi nel 2024 massimo nel entro il mese di marzo del 2024 però guardate bene questo è il consiglio che vi do di andare nello specifico di ogni singola misura perché lì c'è scritto proprio il termine non sono tutti uguali questa non è una disposizione generale ma è una disposizione di riferimento quindi per ogni singolo bando in linea generale non sono non hanno due annualità ma possono iniziare nel 2023 e completarsi nel 2024 però devono iniziare devono essere attivati nel 2023 allora un soggetto che presenta un progetto al bando eventi espositivi può presentare un progetto anche a un altro dei nuovi bandi come la cosa di applicazioni certo l'abbiamo detto allora uno stesso soggetto può presentare ovviamente se ne è titolato più domande sulle varie misure cioè una domanda per ogni misura uno stesso soggetto lo stesso soggetto non può presentare lo stesso progetto su più misure e lo stesso soggetto non può presentare più progetti su una stessa misura che percentuale di modifiche al programma alle date o agli artisti può essere ritenuta valida adesso vediamo anche la la coerenza la coerenza con quello che presentate ovviamente è una percentuale minima non c'è uno stravolgimento del 100% perché se noi accogliamo un'istanza la valutiamo positivamente gli attribuiamo un contributo è per quel programma per quegli eventi e possono cambiare motivandole motivandole con giusta motivazione possono subire delle variazioni ma non in maniera preponderante pena poi lo stravolgimento del progetto che è il requisito per il quale noi vi abbiamo concesso il contributo è possibile già da ora sapere quando saranno comunicate le graduatorie e quindi l'eventuale approvazione del progetto i soggetti esclusi saranno avvisati a loro adesso una previsione precisa non la possiamo fare perché perché dipende dal numero delle domande che riceviamo la bellezza del bando unico della cultura è quella di darvi a voi la possibilità di avere a colpo d'occhio una programmazione di tutta quella che è l'offerta culturale regionale nello stesso tempo però è normale che tutti voi fate una strategia appunto culturale quindi magari c'è la possibilità che voi presentiate più istanze su più bandi noi accoglieremo tutte insieme le dieci misure con tutte le domande che saranno pervenute già il buongiorno si vede dal mattino stanno arrivando diverse istanze noi siamo contenti ma questo dipende dalla mole di lavoro che i nostri uffici dovranno farsi carico perché noi dobbiamo appunto istruire queste richieste queste istanze riceverle e poi formare delle commissioni tecniche di merito che entreranno proprio nel merito del progetto in linea di massima possiamo dire che nel mese di giugno indicativamente avremo le graduatorie le graduatorie che si formeranno però diciamo una data precisa ad oggi non è possibile darla perché ancora dobbiamo chiudere la piattaforma e raccogliere tutte le istanze dopodiché potremo fare una previsione di stima crediamo ci impegniamo comunque di fornirle entro il mese di giugno poi per contributi indiretti in kind come possiamo quantificare per esempio contributo indiretto dobbiamo fornire una determina che ne riconosce il valore o è sufficiente attestazione no fattura della vista che ha fornito materiale per il progetto cioè allora dipende da quale su quale bando magari ce lo specifica e poi nelle questioni diciamo più tecniche che entrano nelle maglie del bando specifico io vi do un consiglio che è quello che do sempre voi avete su ogni istanza un numero di telefono un indirizzo mail che è il numero di telefono e l'indirizzo mail i contatti del vostro referente del progetto il referente unico del progetto è la persona più indicata per darvi dettaglio proprio informazioni di dettaglio che entrano nel merito qui ci limitiamo a dare disposizioni generiche in questo caso dobbiamo capire su quale bando e in che senso si intende poi questa specifica richiesta ce ne sono tante altre possiamo andare oppure magari le teniamo perché qualcuna è nella facca che abbiamo già alcune ce ne sono questa quindi contributi ad associazioni non sono spese ammissibili non abbiamo capito che vuol dire come abbiamo detto se il soggetto proponente individua come un comune ad esempio un soggetto attuatore che è un'associazione per realizzare l'iniziativa il soggetto proponente il comune dovrà rendicontare quindi presentare la documentazione amministrativa che attesti l'assegnazione del contributo all'associazione la liquidazione del contributo all'associazione e anche una relazione finale che l'associazione presenta al comune se si intende questo nella domanda che è stata presentata però magari non andiamo più poi dopo nello specifico potete sentire anche direttamente è vietato possibile previa motivazione previa istruttoria dell'ufficio portare rendicontazione spese sostenute nell'anno 2022 per eventi che si realizzeranno nel 2023 no l'ammissibilità è dal primo gennaio 2023 spese non rendicontrate in alcuna misura di qualunque ente pubblico non è chiarissimo entro il mese di marzo 2024 deve completarsi la rendicontazione delle spese oppure la pianificazione delle date degli eventi allora anche qui in ogni bando sono specifiche sono indicate le date entro cui realizzare le iniziative entro cui inviare la rendicontazione adesso ecco quelle troppo specifiche vi diamo sempre il consiglio di riferirvi a RUP perché è inutile adesso vi terremo la diretta durerebbe veramente delle ore però diciamo quelle di merito magari prego Laura prego in genere adesso questa è una precisazione in tutti i bandi se l'attività l'iniziativa si svolge durante l'anno 2023 la rendicontazione deve essere presentata entro il 31 gennaio del 24 se invece l'evento diciamo inizia novembre dicembre del 23 e prosegue i primi mesi del 24 ovvero diamo la possibilità fino al 31 marzo del 24 la rendicontazione deve pervenire entro il 30 giugno del 2024 naturalmente se ci sono casi particolari motivandolo uno può chiedere anche la proroga precisando e motivando per fare motivo non riesce a fare il rendiconto entro gennaio o mezzo giugno è importante appunto mandare una lettera chiedere la proroga allora mi dicono che abbiamo quasi terminato il tempo a nostra disposizione per questa diretta però vi do questa informazione le domande che noi abbiamo raccolto da voi vi ringraziamo per queste domande e ci danno la possibilità di formare delle formulari delle fac che noi pubblicheremo appunto sulla nostra pagina sul sito della cultura e su lo trovate sulla piattaforma SmartBundi così come il video la diciamo la diretta registrata del 26 aprile dove ve la lasceremo a disposizione perché lì abbiamo fatto come vi ho detto già una demo quindi sul funzionamento della piattaforma c'è quindi anche per la domanda che adesso non ricordo chi l'ha fatta sugli archivi specifica in merito proprio all'archivio e sulle competenze della sovrintendenza noi questa la giureremo direttamente al dottore Andrea Bianchini e poi la pubblicheremo come FAQ così servirà anche vi faremo dare una risposta dettagliata e servirà anche per tutti voi che eventualmente potete leggere queste FAQ noi vi ringraziamo speriamo di essere stati utili per qualsiasi informazione per ogni bando come vi ho già ricordato avete il responsabile del procedimento che segue l'istanza che ne è appunto responsabile e referente per me su queste specifiche misure e vi ricordiamo ancora una volta che il bando quindi la piattaforma già il bando che è stato pubblicato il 4 aprile scorso chiuderà la piattaforma Smart Bandy il 19 maggio alle ore 12 quindi vi ricordo questo termine che è importante e invito quanti di voi ancora non l'abbia fatto che hanno intenzione di presentare istanza di iniziare a scrivere la vostra istanza e compilarla direttamente su piattaforma utilizzando la possibilità salva bozza perché così vi risparmierà notevole lavoro e non siete costretti all'ultimo a fare diciamo delle corse o documenti incompleti grazie per l'attenzione la dottoressa Laura Capozucca io e Claudia Lanari e Massimo Cadunari che voi non vedete mai presente vi salutiamo e vi ringraziamo grazie per l'attenzione grazie a tutti